Non qui, non altrove, viveva un pescatore con sua figlia. La madre purtroppo era morta. Vicino alla loro casa viveva una vedova e anche lei con una piccola bambina. E ogni giorno andava a curare e a cudire la figlia del pescatore. Passarono gli anni e come un sasso scava nella roccia, la vedova sposò il pescatore e andò con la propria figlia a abitare in quella nuova casa. La matrigna cominciò a trattare come una serva alla figlia del pescatore, scaricando su di lei tutti i lavori. Lei accettava in silenzio e pensava, io ho preso lo scorpione con la stessa mano e mi devo salvare con le mie forze. Oltre agli altri suoi compiti, la figlia del pescatore doveva andare ogni giorno al fiume per portare a casa i pesci che il padre aveva pescato. Un giorno la figlia andò al mercato con quattro pesci, tre pesci e gatto e un pesciolino rosso. Il pesciolino rosso cominciò a parlare chiedendole di gettarlo nel fiume e che gliene sarebbe stato grato. Fanciulla, che tutto sopporti con pazienza infinita, ti prego, salvami la vita. Se di nuovo nell'acqua mi getterai, ora e sempre come mia figlia sarai. Quando tornò a casa, la matrina si arrabbiò con lei perché aveva perso un pesce e la rimandò a cercarlo. La fanciulla fu costretta a ritornare al fiume per cercare il pesce e cominciò a gridare. Pesciolino, pesciolino, dove sei? Lui venne a galla e dalla sua bocca uscì una moneta d'oro e rispose Dai questa moneta alla tua matrigna e lei non ti sghiederà. Non in vano tu gentile, hai salvato la mia vita. In me una nuova madre troverai. Vieni da me quando triste sarai, che io ti saprò guarire da ogni ferita. Passarono gli anni e la fanciulla divenne sempre più grande e bella. Un giorno si venne a sapere che la figlia del capo dei mercanti si sposava e tutte le donne del paese erano invitate alla festa del Lennè. Per le due ragazze era un'occasione perfetta per trovare il marito, ma la figlia del pescatore fu costretta dalla matrigna a rimanere a casa a pulire. Allora la ragazza piangendo corse al fiume dal pesciolino e lui le donò un vestito di seta verde, un pettine di madreperla ed un paio di zoccoli d'oro. Ma si raccomandò di tornare a casa prima che la matrigna si raccomandasse. La ragazza andò alla festa del Lennè. Quando vide che la matrigna stava lasciando il palazzo, ritornò subito a casa. Nel tragetto perso uno zoccoletto nel fiume dove si abbeveravano i cavalli, ma era troppo tardi per riprenderlo. Il giorno dopo il cavallo del principe si rifiutò di bere nel fiume, quindi il principe chiamò il suo serbo per vedere che cosa c'era sul fondale. Il servo trova uno zoccoletto d'oro. Il principe chiese a sua mamma, la regina, di andare in tutte le case del paese per farlo provare alle fanciulle. Dopo tanti giorni di vanericerche, arriva a casa del pescatore e la matrigna nascose la fanciulla in un grande forno nel giardino e lo chiuse con una tavola di creta dove si lavorava l'impasto per il pane. La regina fece provare lo zoccolo alla figlia della matrigna, ma proprio in quel momento un gallo iniziò a cantare per due volte dicendo La regina, sentendo il canto del gallo, ordinò alle guardie di cercare la ragazza in tutta la casa. Dopo tanto tempo, trovarono la fanciulla e le fecero provare lo zoccoletto d'oro. Le calzava perfettamente. Allora la regina donò alla matrigna tante monete d'oro per preparare la ragazza per le nozze. La matrigna, invidiosa di lei, andò dal farmacista e gli chiese una crema per farle puzzare la pelle, una pozzona per farle cadere i capelli e uno sciroppo che causava dolori alla pancia. Arrivarono a casa del pescatore i cavalli del re per portare la fanciulla al palazzo. Quando arrivarono lì, la ragazza profumava come una rosa, aveva i capelli vaporosi ed era bella come la luna piena. La matrigna, visto il risultato, diede il doppio della pozione a sua figlia perché si doveva sposare con il fratello del mercante. Ma quando arrivò il giorno delle nozze, il suo odore era nauseante e venne rimandata a casa. Il principe e la fanciulla vissero sempre felici e contenti con i loro sette meravigliosi figli. Moro a mora, così termina la mia storia. Se la mia casa non fosse così lontana, io porterei un gran cesto di figli che uvano strane. Grazie a tutti.